Io direi questo, che dobbiamo cominciare a guardare ai motivi per i quali i partiti prendono i voti e non soltanto a come poi li gestiscono. E allora noi vediamo che nel 2013 il Movimento 5 Stelle sostanzialmente impedisce la piena vittoria del PD, obbliga al governo Letta con Berlusconi e poi da lì esce un governo Renzi. Quindi nel 2013 il Movimento 5 Stelle era cresciuto abbastanza appunto da impedire la piena vittoria del PD di Bersani perché chi ha votato nel 2013 a favore del Movimento 5 Stelle? Durante il governo Monti, che ha preceduto quelle elezioni, ogni mese del governo Monti il Movimento di Grillo cresceva dell'1%. Questa è matematica aritmetica, semplicissima. Ogni mese di quel governo il Movimento 5 Stelle è cresciuto dell'1% ed è arrivato al 17%. Un po' come ha fatto con la Meloni durante il governo Draghi in qualche modo. Bene, nel 2013 chi ha votato Movimento 5 Stelle votava sostanzialmente contro sia Berlusconi certo e altrettanto certamente contro Monti e le loro politiche, per quanto piuttosto divergenti. Nel 2018 contro chi hanno votato, coloro che in altissimo numero hanno votato il Movimento 5 Stelle, hanno votato evidentemente contro il PD e contro particolarmente Renzi. Quindi, ecco, allora io qui francamente di ideologia non ne vedo, io non ho la concezione negativa dell'ideologia che oggi va per la maggiore. Le ideologie sono i grandi motori intellettuali della politica moderna. Chi ha visto da vicino un Parlamento piuttosto pieno di 5 Stelle, di tutto può parlare tranne che di ideologia. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto voti di protesta, tanto più numerosi quanto più dure e difficili diventavano le condizioni socio-economiche del paese, in seguito alla crisi del paradigma neoliberista, crisi che si è manifestata con la grande crisi del 2007-2008 dei mutui soprani in America, con la risposta europea a quella crisi che è stata una risposta in termini di austerità. Questo è il Movimento 5 Stelle, un raccoglitore di voti di protesta, i quali voti vengono raccolti da un personale politico finora completamente inadeguato, sostanzialmente estraneo alle logiche di una democrazia liberale, di una democrazia sociale e privo di esperienza. Nel frattempo qualcuno, un po' di esperienza se l'è fatta e sicuramente questo qualcuno è Giuseppe Conte, è anche Di Maio certo, ma insomma lui è fuori adesso, Giuseppe Conte. Io penso che tutto quello che dobbiamo sapere oggi è, ci sono ancora delle ragioni per le quali persone votano un partito che, mosso inizialmente da forti istinti di protesta, è poi andato al governo con risultati quanto meno discutibili, dimostrandosi, come avete detto, in realtà piuttosto attaccato al potere. Ma insomma, ci sono ancora queste ragioni di scontento, sì o no? Sì, il Movimento 5 Stelle gode ancora di una qualche legittimità presso coloro che vogliono votare per esprimere scontento. Guardate, ho detto coloro che vogliono votare per esprimere scontento, perché ci sono moltissime persone scontente che esprimono scontento non andando a votare. Tra quelli che vogliono esprimere scontento e vogliono anche andare a votare, il Movimento 5 Stelle ha ancora una qualche legittimità, non dico di essere un partito antisistema, ma di essere un partito almeno anti-PD e anti-destra? Ecco, è la domanda che si fa a Conte. Conte si distacca, si vuole distanziare da chi? Va bene, dalla destra al governo, ovviamente. Da Renzi, per quel po' che resta di Renzi, e per il tentativo di Renzi di rientrare nel PD, ovviamente, e si vuole distaccare dal PD. E marca questa distanza praticamente su tutti gli azimuth, cioè su tutte le grandi questioni interne e internazionali sulle quali un partito politico, bene o male, deve prendere posizioni. E questo lo fa per acquistare legittimità agli occhi di quello che lui spera essere una vasta fetta degli elettori, che vogliono andare a votare e vogliono votare per esprimere dissenso. Ma di ideologia non c'è nulla. Se noi chiediamo a, non dico a Conte, ma a un elettore del 25 Stelle, tu sei di destra o di sinistra, o non risponde, o risponde a caso, o se proprio è molto informato, dice che non ci sono più la destra e la sinistra. Non è un'ideologia. Sì, anche questo, diciamo che questo è forse un effetto collaterale non voluto dell'azione politica di Grillo, che aveva molto dell'improvvisato. Ma certamente c'è stato uno spostamento, diciamo così, sul simbolico, il Waffa dopo tutto è un gesto simbolico, rispetto a quello che un tempo diventava, insomma, un tempo guerra civile, ma anche solo nel 68, nel 69, diventavano robuste lotte sociali, diciamo. Ecco, molto robuste lotte sociali. E c'è stato uno spostamento sul simbolico che poi si è causato dal trasformismo in un'altra storia. Cioè, il trasformismo da solo non disinnesca i conflitti. I conflitti si disinnescano o per stanchezza dei cittadini o perché qualcuno mette in atto politiche sufficientemente elastiche da assorbire almeno una parte dei conflitti. Il trasformismo è, quando va benissimo, è una delle strategie parlamentari per disinnescare conflitti. Ma di solito da solo non basta. Quando il paese era guidato dal trasformismo di De Pretis, i conflitti sociali si formavano, non si spegnevano. Ecco, se invece vuol dire che la democrazia cristiana è stato un curioso esempio di trasformismo monopartitico in cui, dentro la quale stava tutto il contrario di tutto, il che è servito a domesticare una società che era percorsa da conflitti gravissimi, allora posso essere d'accordo. La seconda, cioè qui io non vedo una linea politica di carattere novecentesco e tardo ottocentesco, non vedo un'interpretazione del mondo e non credo nemmeno che sia stato il Movimento 5 Stelle a iniettare nella società italiana elementi di populismo. Penso il contrario, penso che il populismo sia nato dentro la società italiana e anzi ci sia sempre stato e sia stato adoperato, risucchiato e messo in forma politica dai grandi partiti politici della Prima Repubblica, crollati i quali abbiamo avuto una supplenza berlusconiana, crollata la quale non abbiamo avuto più nulla fino alla destra di oggi. e in mezzo a questo nulla c'è anche l'effimero Movimento 5 Stelle di Grillo. Io credo che quella fase che io ho vissuto dall'interno, io ero in Parlamento dal 13 al 18 e non era una fase piacevole, quella fase di totale analfabetismo politico che veniva avanzato e sventolato dal Movimento 5 Stelle sia superata. penso che adesso, benché non sia divenuto un partito perché non ha ancora le strutture giuridiche, politiche perché ci sia un partito, non ha la cultura di un partito, ma insomma penso che quella fase sia superata e che Conte stia portando il Movimento 5 Stelle in una condizione, in una posizione dove c'è certamente un tenersi le mani libere per fare molte alleanze con molti soggetti, ma in una condizione meno rozzamente antipolitica. Ecco, per cui l'uno vale uno è contraddetto dal fatto che si va al terzo mandato contro i sistemi esperti e contro l'autorevolezza epistemica penso che adesso si siano un po' calmati i bollenti spiriti. Insomma, penso che non sia un partito di sinistra radicale, penso che sia un partito che vuole essere radicale senza essere né di destra radicale né di sinistra radicale. un partito che esprime in modo chiaro, in modo esplicito, la contrarietà di una parte dell'elettorato rispetto all'andamento delle cose del mondo e dell'Italia su alcuni temi fondamentali e che questo possa anche consentire in un futuro non lontanissimo, in un futuro un'alleanza fra il PD e il Movimento 5 Stelle, dove però il Movimento 5 Stelle non vorrà certamente fare la parte della linea giovani del PD, vorrà fare la parte del duro antagonista del PD. Bisogna poi vedere perché si vuole tenere le mani libere su tutto e dunque non vuole essere la linea giovani del PD, non vuole essere sostanzialmente prevedibilmente alleato del PD e adesso è andato lì e ha arraffato un posto in consiglio d'amministrazione RAI giustificando la mossa, dicendo che lì si va per fare controllo e non per esercitare potere, altrimenti tutto finiva nelle mani della destra. Io penso che sia un partito che non ha forse una gran voglia di tornare al potere e che comunque vuole tornare al potere non col 10%, vuole tornare al potere essendo molto più robusto e per essere molto più robusto deve fare una lunga attraversata quasi nel deserto per tornare a mettere insieme una buona dose di numeri che ha perso in questi anni naturalmente e questa buona dose di numeri io penso che essi, egli, cioè Conte, pensi di poterla raggranellare e sostanzialmente prendendo posizione il più possibile distante dal PD e dalla destra su tutti i temi fondamentali della politica. Trump, se vince le elezioni, ha come referente italiano Giorgio Meloni più o meno grazie alla mediazione di Musk e quindi inevitabilmente Conte si dovrebbe trovare nella posizione di essere in violenta polemica nei confronti perché mi sembra difficile pensare che Trump abbia eventualmente vinto negli Stati Uniti e sceglie in Italia non Meloni ma Conte come proprio referente. Non c'è motivo. Meloni è presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni ha un partito del 30%, perché mai dovrebbe puntare su Conte? Io direi che da questo punto di vista non c'è un grosso problema, la via è segnata. La posizione di Trump sull'Europa finora è naturalmente l'Europa deve continuare a fare parte della sfera di influenza statunitense, dell'Occidente nel suo complesso, ma certamente il cuore di Trump non batte per l'Europa e certamente i suoi obiettivi sono altrove, gli obiettivi sono l'Iran, l'obiettivo è la Cina, mentre invece con Putin è necessario, secondo lui, trovare un accordo e probabilmente questo allenterà il legame degli Stati europei fra di loro e inviterà gli Stati europei a tentare di gestire le questioni europee ciascuno secondo i propri interessi. La dinamica secondo la quale c'è un nemico esterno e quindi dobbiamo stare uniti, soprattutto perché gli Stati Uniti ci invitano, ci esaltano molto fortemente a stare uniti contro il nemico esterno, quella dinamica non dico si interromperà, ma insomma si alleggerirà parecchio con Trump. Questo è abbastanza facile prevederlo.